buongiorno benvenuti a tutti al secondo dei nostri webinar specifici sui bitcoin in occasione del nostro concorso crypto challenge 2017 io sono giacomo buzzoni analista e account manager di xtb e una breve introduzione sul webinar di oggi dal 4 novembre quindi da tre giorni fa fino al 10 novembre è iniziato il periodo che chiamiamo di riscaldamento di warm up del nostro crypto challenge il nostro concorso mi sentite tutti direi di sì direi che non c'è nessun problema ecco giusto un breve scursus se avete qualche problema per caso anche sull'audio e avete la possibilità di fare anche domande quindi chiedete informatemi anche nel caso ci sia qualche problema allora vi dicevo in occasione del nostro crypto challenge 2017 stiamo organizzando una serie di webinar specifici proprio sulle criptomonete e cercando anche di dare la dovuta attenzione al bitcoin in quanto criptomoneta la più capitalizzata al mondo è anche la più conosciuta per darvi l'opportunità di avere gli strumenti giusti per poter incrementare al massimo i vostri 20.000 euro virtuali che avrete a disposizione su questo concorso per poter iscrivervi ve lo sto facendo vedere in questo momento lo state vedendo tutti sulla nostra home page sulla pagina web xtb.com slash it o xtb.it è la stessa cosa e nel nostro banner in alto avrete l'informazione sul crypto challenge 2017 mettiti alla prova cliccando su trade bitcoins avrete accesso direttamente alla pagina e alla sezione specifica sul crypto challenge onde per cui sarà sufficiente registrarvi in questa schermata con il vostro nome cognome email e telefono avrete immediatamente accesso alla demo solo con le criptomonete disponibili come strumento da negoziare con 20.000 euro di capitale di investimento virtuale giusto per chiarire lo potete vedere anche qua il periodo di riscaldamento di warm up finirà il 10 novembre dopodiché inizia in concorso lo vedete anche qui lo sto sottolineando in questo momento dal 13 al 24 novembre dovrai operare in criptovalute dal tuo account demo e dimostrare tutto il tuo potenziale come trader tra i primi tre che incrementeranno in di più il proprio capitale sono previsti tre premi in denaro proprio quindi non sono bonus non prelevabili ma sono assolutamente soldi che saranno versati sul vostro conto trading reale e quindi a vostra disposizione sia da essere prelevati che poter essere anche usati per ulteriori operazioni trading e quindi mille euro per il primo classificato 500 per il secondo 250 per il terzo classificato entrando nel dettaglio prima di andare a vedere la nostra un'analisi tecnica che ho preparato per voi per poter avere un po l'idea chiara di quali sono le ultime notizie che abbiamo sul bitcoin in particolare andiamo a leggere il nostro consueto disclaimer e avviso sui sono le responsabilità nel webinar qualunque parere notizia ricerca analisi scusate prezzo o altro tipo di informazione forniti sotto forma di commenti generali sul mercato non costituiscono consigli di investimento e sono dati con finalità educative in ambiente demo x trade brokers non si assume responsabilità per nessun tipo di perdita o danno compresi mancati profitti che potrebbero sorgere o dipendere direttamente o indirettamente dall'utilizzo di tali informazioni avvertenza di rischio il tuo capitale è a rischio con xtb le perdite non possono eccedere il valore dei depositi al contrario del mercato dei broker in generale e al contrario anche di una delle regole fondamentali del trading in xtb le vostre perdite non potranno mai eccedere il valore dei vostri depositi in quanto abbiamo un servizio attivo da poco più di un mese dall'1 ottobre che si chiama protezione saldo negativo onde per cui è un servizio che offriamo a tutti i nostri clienti di xtb italia che permette di non eccedere mai con le perdite il valore dei propri depositi detto ciò un breve reminder sul crypto challenge che abbiamo visto prima warm up dal 4 al 10 novembre oggi al 7 abbiamo altri tre giorni di prova per poter provare strategie per poter provare quello che volete sulla vostra piattaforma e il contest vero e proprio inizierà il 13 novembre e si concluderà qua c'è un errore non il 27 ma il 24 novembre i premi del concorso lo vedevamo prima primo posto 1000 euro secondo posto 500 euro terzo posto 250 euro è giusto per chiarire una domanda che mi era stata posta che magari può anche essere un vostro dubbio e la classifica sarà pubblicata ogni giorno sulla nostra home page con i numeri di conto dei partecipanti per ovviamente per ragioni legate alla privacy non possiamo dare nomi e cognomi ma pubblicheremo numeri di conto onde per cui potrete controllare continuamente in tempo reale come sta andando la classifica la classifica sarà stilata su colori quali che saranno capaci di incrementare il più possibile il proprio capitale di investimento virtuale iniziale che è uguale per tutti di 20 mila euro chi lo incrementa di più di tutti gli altri giusto per darvi un dato anche reale in altri paesi in cui è stato organizzato precedentemente questo concorso tra i primi classificati sono stati raggiunti anche capitali virtuali dell'incremento anche del 3 400 per cento fino ai 95 100 mila euro quindi sono cose più che fattibili abbiate sempre anche voi in mente questo dato allora andiamo a fare questa breve analisi tecnica che ho preparato per voi che è anche stata pubblicata fra l'altro nella nostra home page vi faccio vedere dove dove ci sono le nostre news del mercato adesso devo entrare in incognito per non avere le cookies registrate vediamo che entro un momento sulla nostra home page vedete che abbiamo news del mercato e qua è già stata pubblicata che deve aggiornarsi adesso sarà pubblicata nel giro di qualche minuto l'analisi tecnica che andremo a vedere adesso allora ok mi dicono che un mio collega mi informa fra l'altro che è già visibile sulla pagina quindi dovreste vederla meglio di quello che lo vedo io iniziamo a leggere insieme questa breve analisi tecnica che che novità ci sono sul bitcoin una previsione da parte di Goldman Sachs Goldman Sachs è una delle entità bancarie dei dei grandi investitori che si sente ogni tanto parlare anche nei telegiornali di una delle banche più grandi del mondo Goldman Sachs che cosa ha detto prevede che per quest'anno il prezzo del bitcoin potrebbe arrivare anche a 8 mila euro e la previsione che è stata basata sulla teoria delle onde di Elliot in concreto sul bitcoin e prevede che rompa il suo supporto il suo supporto e possa guadagnare ancora possibili diciamo profitti la Reserve Bank della India RBI in inglese effettua fra l'altro un annuncio sulle criptovalute bitcoin e che cosa dice questa questa entità bancaria che il bitcoin ha rallentato un po' la sua tendenza negli ultimi giorni dopo aver raggiunto e superato la quota di 7 mila dollari 7 mila e 5 intanto che leggiamo possiamo anche anzi ve lo leggo io e andiamo a vedere immediatamente il bitcoin sulla nostra piattaforma io qua ce l'ho a time frame m15 possiamo prenderlo anche in esame in h1 vediamo che effettivamente con il nostro crosshair questo strumento disponibile per tutti voi sulla xstation 5 vi permette di poter prendere in esame ogni singola candela sul time frame che avete selezionato vediamo che è stato raggiunto il massimo fino adesso del bitcoin il 5 novembre due giorni fa raggiungendo un massimo di 7 mila 585 dollari scambiati per un bitcoin dopodiché ha corretto il proprio valore fino a posizionarsi negli ultimi giorni fra i 7 mila e i 7 mila 200 dollari in questo momento si trova intorno ai 7 mila 61 però ha già rotto il massimo storico il bitcoin si prevede che possa continuare a crescere che possa raggiungere in base anche proprio all'analisi tecnica di colman sachs gli 8 mila dollari scambiati per un bitcoin diciamo quello che abbiamo visto negli ultimi giorni effettivamente che c'è stata una leggera correzione ma è una cosa che il bitcoin c'è anche abituato negli ultimi tempi è uno strumento di grande volatilità di grandi salti tra virgolette di valore e la qualcosa ci può permettere anche di avere buone opportunità di investimento sapete benissimo come me insomma che le operazioni che possiamo svolgere su bitcoin sono sia entrare comprando entrare comprando scoperto quindi short o long quindi ogni variazione di valore per noi è una opportunità di guadagno quindi da tenere in conto anche per il vostro per il vostro concorso per le vostre operazioni sul crypto challenge andiamo a vedere con un paio di indicatori che io personalmente prediligo che sono le me la media mobile esponenziale io normalmente me ne preparo tre di diversi periodi quindi andremo a fare una di sei una di 12 periodi andando a cambiare il colore per non confonderci uno con l'altra e una successiva questa la metto normalmente a un periodo abbastanza più ampio di quelli che sono gli altri la metto a 36 periodi cambiamo il colore la mettiamo in questo blu un po più chiaro giusto per non confonderci e andiamo a vedere che le nostre tre medie esponenziali sapete sapete se non lo sapete vi consiglio comunque di studiare anche questi tipi di indicatori che la media esponenziale più è grande il periodo più è piatta la media in quanto è una media che dà più importanza ai dati più recenti rispetto a quelli passati e ci può dare anche degli ottimi segnali anche di investimento e su il rsi che conoscete bene tutti anche voi io per default lo tengo a sei periodi ci dà anche questo un'intenzione comunque una un'indice di di forza relativa quindi che unito altri indici si può dare qualche insegnale chiaro di investimento andiamo a vedere anche sulla ecco un'altra cosa importante che vi consiglio di tenere se anche sempre sotto analisi anche questo strumento che avete su vista del mercato sulla sinistra vedete tutte queste barrette che si aprono sotto a buy e sell non è nient'altro che la penetrazione del mercato sono i volumi disponibili nel senso se in questo momento noi volessimo andare ad aprire dieci lotti sul bitcoin vedrete che apriremo cinque lotti a questo livello due lotti a questo livello e i restanti tre lotti su questo livello per cui è anche questa un'informazione importante di come si sta muovendo il mercato avete anche oltretutto gli indicatori a volumi ottimo strumento anche questo da tenere in conto anche per voi adesso leggermente piatto in quanto non c'è molto spazio fra un volume e l'altro però comunque anche questo ci indica quale può essere in un certo senso anche il sentimento del mercato o i volumi che vengono negoziati su sul bitcoin in particolare sto cercando di ampliare un po i grafici in modo che sia più visibile vediamo che effettivamente adesso il bitcoin pare che stia disegnando una candela siamo in un time frame h1 e quindi una candela oraria e ribassista vediamo mancano 13 minuti al completamento di questa candela se andiamo ad accorciare il time frame avremo un'indicazione anche più a breve termine di quale può essere l'andamento di questo di questo asset e onde per cui ecco vi consiglio e vi dico anche di tenere sempre organizzate anche i vostri indicatori e le vostre strumenti di analisi sia sul bitcoin che anche sulle altre criptovalute in genere ritornando sulla nostra analisi tecnica come vi stavo leggendo prima fondamentalmente il prezzo ha disegnato lo vediamo anche negli ultimi tempi una candela ribassista leggermente in ritardo anche se Goldman Sachs vede ulteriormente spazio per poter crescere di conseguenza quindi la banca statunitense ha fatto un aggiornamento sull'analisi tecnica del bitcoin che prevede che nei prossimi tempi possa rompere gli 8 mila e 8 mila dollari per un bitcoin onde per cui ritornando ancora una volta sulla nostra piattaforma e se parliamo dell'ordine degli 8 mila vedete che è un livello che comunque è mille dollari al di sopra al di sopra di quello raggiunto fino ad adesso bene ritornando alla nostra analisi tecnica quindi andiamo continuiamo a leggere insieme l'analisi tecnica è basata sulle teorie delle onde di elliot e quindi la seguente tabella descrive un punto di vista Goldman su questo argomento in una nota i suoi clienti Goldman Sachs ha scritto che il bitcoin ha superato un obiettivo di uguaglianza dal minimo di luglio a 6 mila 44 dollari di conseguenza gli analisti hanno affermato anche che questa rottura ha indicato un potenziale di avanzamento impulsivo che vuol dire praticamente una crescita abbastanza veloce che potrebbe raggiungere tranquillamente i 7.940 dollari questo è l'obiettivo minimo per una delle onde di elliot e dovrebbe essere un livello da cui osservare per cercare eventuali segnali di consolidamento abbiamo citato un possibile modello di evening star anche che è stato disegnato su un grafico time frame di uno a un giorno possiamo anche sospettare che gli acquirenti quindi i tori possono affrontare anche qualche ostacoli nei pressi di un limite superiore di un canale e una volta che si forme una candela ribassista potrebbe anche portare eventualmente a un ritiro dal mercato d'altra parte una rottura di questo livello insieme alla parte superiore del modello di cui abbiamo visto l'abbiamo visto sopra qua però l'abbiamo visto anche direttamente in piattaforma noi potrebbe provocare anche una candela allungata che potrebbe superare tranquillamente anche gli 8.000 dollari e riassumendo vediamo anche qua nel nostro nel nostro cerchio arancione che andando a ingrandire anche la nostra immagine si è andato a formare su un livello di 7.280 7.270 7.280 dollari per un bitcoin quindi vediamo che come leggevamo prima il cerchio arancione che abbiamo appena visto può essere un livello cruciale che potrebbe decidere un'ulteriore direzione in vista della moneta digitale che cosa quindi fondamentalmente diciamo che altre notizie che abbiamo relative anche alle cryptocurrencies in generale al bitcoin in particolare vale pena di guardare che l'agenzia nazionale investigativa del nepal ha arrestato due fondatori dello scambio di bitcoin nella crisi in corso nel loro paese il bitcoin saprete dal di là delle notizie che sentiamo che spesso ci spaventano un po che può essere una manetta una moneta che possa anche essere usata per scambi di droga per traffico di armi eccetera eccetera la caratteristica principale delle crito monete proprio il fatto di essere totalmente decentralizzata e di non essere nessun strumento di politica economica né di nessun paese né di nessun governo né di nessuna banca centrale e di nessuna banca privata quindi spesso è uno strumento che spaventa perché comunque fondamentalmente toglie potere a chi fino adesso ce l'ha sempre avuto che fondamentalmente sono le classiche valute nazionali il bitcoin è slegato da questo concetto però è uno strumento di grande opportunità io a me piace molto sinceramente questa cripto moneta e l'altra notizia importante che stavamo leggere che stavamo per leggere invece è in giappone e tenta il giappone tenta di attirare aziende correlate alla alle cripto monete per utilizzare la propria energia rinnovabile quindi vedete dall'altra parte il nepal la resta due fondatori dello scambio di bitcoin bicewa mentre dal giappone si favorisce la circolazione di questa moneta una società ha già annunciato che aprirà il proprio primo centro minerario giapponese a base di energia pulita e per miniera di dieci tipi di valute virtuali tra cui bitcoin quindi si consolida cresce continuamente noi abbiamo che sarà anche la novità dei prossimi webinar che avremo prossimamente abbiamo fra i nostri trader al nostro interno non posso dire il nome per privacy però se mi sta ascoltando sa perfettamente che sto parlando di lui abbiamo una persona che si occupa proprio della creazione di bitcoin in italia quindi un miners di quelli che si chiamano in termine tecnico quindi nei prossimi webinar vedremo anche proprio a livello tecnico come vengono gestiti come si creano questi webinar e può anche essere quello spunto per voi per poter cercare le maggiori opportunità nei prossimi nei prossimi giorni per quanto riguarda le criptovalute vedremo anche nel prossimo webinar e quelli che possono essere anche altre opportunità di investimento il ripple in scusate il light il ripple invece stiamo guardando il ripple è a quota 0.200 se lo vediamo in anche questo in time frame h1 vediamo che da metà ottobre fino ad oggi ha perso leggermente il proprio valore onde per cui prepareremo anche analisi tecniche su questo strumento in concreto ricordate che avete a disposizione per il crypto challenge cinque criptovalute il bitcoin il ripple l'etherium il litecoin e il dash vi invito a cercare di capire bene anche voi con i vostri propri strumenti le caratteristiche di ogni singola moneta anche perché pur essendo tutte cinque criptovalute hanno loro stesse delle particolarità speciali al loro interno sono comunque strutturate in maniera diversa le vedremo tutte le restanti quattro nei prossimi giorni e come detto prima prenderemo un'analisi anche l'analisi tecnica specifica di altre monete e le caratteristiche tecniche del bitcoin in particolare direi che per oggi non abbiamo neanche tante altre informazioni da dare se avete qualche domanda o qualcosa di specifico da chiedere vi invito comunque a porgere le vostre pregunte nel caso in cui non ci siano domande che mi sembra di no per adesso vi ringrazio nuovamente a tutti per la vostra attenzione da parte di giacomo buzzoni la l'email per poter chiedere informazioni è 6 chiocciolo xtb punto it il nostro numero di telefono 0 2 8 9 9 8 2 4 4 2 vi invito anche a iscrivervi tutti voi al nostro canale youtube xtb italia dove pubblicheremo continuamente gli ultimi webinar realizzati e quindi poter essere sempre aggiornati tutti voi sugli ultimi webinar pubblicati direi che per oggi possiamo anche concludere vi ringrazio a tutti per l'attenzione e nel caso in cui ci siano ulteriori domande insomma vi aspettiamo sempre e siamo sempre disponibili a chiarire tutti i vostri dubbi grazie a tutti e buona giornata